Il nostro camminatore, eh, Francesco? Francesco! Francesco! Ecco quella griffa. Ciao Francesco! Ciao, come stai? Ciao, buongiorno, però basta con questa musica di Rocky, non c'è qualcosa di più attinente, di diverso per cambiare. Chiedi, chiedi tutto a me. Questa ti piace, Francesco? Francesco, ti piace? Perfetto, Indiana Jones, uomo affascinante, di cultura, sempre alla ricerca di qualcosa, mi piace molto di più. Oh, ok, ti accontenterò. Dove sei esattamente? Dici il tuo cammino. Grazie, allora vi faccio vedere dove sono. Sono su Monte Faito, nel parco regionale dei Monti Lattari, e sono in questo meraviglioso bosco di faggi, infatti il nome Faito deriva proprio dalla parola faggi. E grazie a queste meravigliose piante che qui sotto a Castellammare di Stabbia, in epoca borbonica, fu realizzato un importante cantiere navale che negli anni 30 e il 900 gli ed è il varo all'orgoglio della nostra marineria italiana, la nave Amerigo Vespucci, che in questi giorni è proprio qui nel Golfo di Napoli per alcune esercitazioni. Ma una cosa da fare molto importante quando si cammina in un bosco del genere pieno di storie, ci sono piante che hanno addirittura 400 anni e 7 metri di diametro, è quello di abbracciare l'albero. Una pratica molto antica che si dice faccia molto bene sia allo spirito che al corpo, perché aiuta ad abbassare l'ansia, a regolare il respiro, aiuta la rigenerazione delle cellule e quindi a mantenersi giovani. Quello che non va mai fatto è quello di incidere le piante, perché si creano delle vere e proprie ferite. Questo che vediamo, bianco e rosso, invece, ci sono i segni tracciati dal Caila, il club alpino italiano che segna appunto il sentiero. Dicevamo l'importanza di questi faggi. Vedete, il fogliame è così fitto, per cui la temperatura tra sotto il bosco a pieno sole è di 5-6 gradi più basse. Questa cosa serve a produrre una cosa molto importante che ci ha raccontato questa mattina Giuseppe Buonocore quando l'abbiamo incontrato. Vediamola qui. Questa è una neviera. Fino all'inizio del 1900, la produzione del ghiaccio era molto complessa e faticosa. che avveniva in queste fosse artificiali, appunto chiamate nevire. Si veniva in questa zona, si inventava la fossa con le foglie di faggio, si riempiva di neve fino all'urlo, poi si copriva con terreno e foglia. I faggi secolari presenti in questa zona, con la loro forte chioma, abbassavano le temperature e facevano sì che il ghiaccio li manteneva fino in estate, dove veniva preso, tagliato in blocchi e trasportato a vigo, a spalla, che serviva nella zona del napoletano, in campo medico, in campo della conservazione degli alimenti. Francesco, quindi il livello di difficoltà tinto? Questo com'è? Guardate, siamo usciti... Questo è medio, poi è facilissimo venire qua, perché da Castellammare di Stabbia c'è una funeria che in soli otto minuti vi porta all'inizio del cammino, ed è assolutamente facile per fare una giornata diversa rispetto alla spiaggia. Ma posso raccontarvi questa meravigliosa vista? Cosa vediamo? Abbiamo un po' di tempo ancora? Sì, sì, vai, vai, una finestra sull'Italia. Allora, quello che vediamo alla nostra sinistra è l'arcipelago dei Ligalli, a cui è legato il mito delle sirene, viene anche chiamato sirenuse. Perché? Perché nell'iconografia greco-antica l'immagine delle sirene non era donna e pesce, ma era mezza donna e mezzo uccello, da cui deriva il nome Ligalli. Poi l'immagine che abbiamo oggi della sirena, mezza donna e mezzo pesce, derivata dalla mitologia nordica, che poi è stata resa famosa da film e da cartoni animati. A destra vediamo la meravigliosa Capri, laggiù in fondo con i faraglioni, qua sotto ancora Sorrento e a destra, un po' coperta dalla foschia, abbiamo appunto Ischia. Questo è un cammino meraviglioso, si può alternare una giornata in costiera con una camminata qua in montagna. Tinto, Roberta, scommetto che sarei stati tantissime volte qua sotto in costiera, a godere del glamour, dello shopping e delle meraviglie enogastronomiche di questi luoghi. Ma perché una volta non venite a fare una bella camminata con me in montagna, un dieci chilometri, magari il primo chilometro, alla bersagliera di cursa che vi fa tanto? Guarda, ti prendiamo alla letta. Ma io vi invito tutte le settimane, se devo che avete sempre una scusa. Grazie. Va bene, Francesca, accettiamo l'invito. C'è da fare, mangiare, assaggiare, comprare. Ciao, ciao Francesco.